Rendere la città di Morbegno, anche da un punto di vista culturale, conscia delle proprie possibilità, cioè il fatto che vivere in montagna non sia un limite, ma sia soprattutto una grande occasione. Prende forma il programma degli eventi per celebrare Morbegno città alpina del 2019. Stamani in sala consigliare il sindaco Andrea Ruggeri, alla presenza dell'assessore regionale alla montagna Massimo Sertori, ha incontrato il comitato d'onore illustrando gli obiettivi che questo prezioso riconoscimento dovrà generare. Dal rafforzamento della coscienza alpina, al coinvolgimento della popolazione, dal consolidamento dei rapporti con l'intero territorio della provincia e la regione, fino alla progettazione in modo sostenibile del futuro della città del Bitto, pronta a diventare una smart city a tutti gli effetti. Ho incontrato oggi le associazioni del territorio con le quali vogliamo costruire un programma condiviso che è strutturato sia a livello di iniziative ma soprattutto di questa presa di coscienza dell'essere uomini di montagna. Questo sarà un passaggio che poi verrà sviluppato nel tempo al fine di dare a questo titolo dei contenuti non soltanto di facciata ma appunto dei contenuti concreti in termini di eventi, di conveghi e poi anche di progettualità. In particolare possiamo dire che è stato riconosciuto il dossier di candidatura di Morvegno come meritevole appunto di ottenere poi il titolo per i tre progetti che sono stati presentati che riguardano l'enogastronomia in generale e le potenzialità che il territorio offre dal punto di vista culturale, le scelte energetiche fatte negli ultimi anni dal teleriscaldamento e soprattutto anche per la parte che riguarda la messa in valore dei monumenti storici del paesaggio. Un valore molto importante per Morvegno ma aggiungo anche per tutta la Valtellina perché è un riconoscimento a Morvegno di un territorio di montagna che cerca anche in questo caso di esaltarne le qualità. Credo che poi peraltro questa sia l'occasione per un coinvolgimento della cittadinanza, della popolazione. Aggiungo che per quanto riguarda Morvegno da qui a non molto con l'apertura della tangenziale cambieranno molte cose e quindi il traffico che in qualche modo è di transito non ci sarà più ma ci sarà un traffico che puntualmente verrà a Morvegno nella ricerca di qualche cosa che può trovare di piacevole per cui credo che questa sia la direzione veramente giusta.